Buongiorno dal mitico stadio Diana, sempre tirato al lucido, sempre bello, un'altra puntata dedicata ai cento anni della nostra società, amatissima società giallorossa. Partiamo con una foto, innanzitutto partiamo in maniera molto informale con le presentazioni, alla mia sinistra io sono Carlo Nardi, alla mia sinistra Adriano Polenta, alla mia destra Marco Carlini e il presidente Antonio Campanelli che ci ospita in maniera così gradevole. Oggi parliamo con due colonne dell'Osimana più forte, l'Osimana della C2, quindi due memorie storiche importanti e due ottimi giocatori, lasciatemelo dire. E partiamo con una foto, se riesci ad inquadrarla si vede, non lo so, e qui nasce il Busillis perché siccome qualche annetto è passato la memoria non ci tradisce un po'. Dovrebbe essere tra il 75 e il 77 Marco? Sì, e nelle massime così. Ecco, e Adriano conferma, no? Sì, sì, in questo modo sono gli anni 70, diciamo, dai fermo. Vabbè, te non eri qua, te eri più, eri qui, infatti si vede dalla foto in fondo che ci sei. Allora, cominciamo da Adriano, che anni erano, qual è stata? E poi più, in maniera più ampia, tuoi ricordi, le tue esperienze, il tuo salto verso il professionismo, quello vero? Beh dai, diciamo che i miei anni Osion nascono da ragazzini, da bambini, sono entrato nell'Osimana da 11 anni e mezzo, quindi ho cominciato a giocare, eccetera, eccetera, come fanno tutti i bambini che hanno questa passione. Poi, diciamo, sono sviluppate le cose, sono andate bene e c'è stato questo periodo appunto a cui ti riferivi prima, a cui fa riferimento la foto, che è stato un periodo molto bello e nell'Osimana credo che sia stato forse il periodo più, diciamo, più importante e in cui abbiamo raggiunto la serie C e siamo stati un periodo, diciamo, della vecchia serie C1. E quello è stato veramente un periodo bellissimo su questo campo, su spalte e gremiti, insomma veramente grandi soddisfazioni. Dopo ho avuto l'opportunità e la fortuna di cambiare, diciamo, totalmente zona e ho avuto una richiesta, un paio di richieste, ho cominciato il mio iter calcistico a Cava dei Tirreni e poi anche lì sono stato fortunato perché, come dico sempre, lo ribadisco, ci vuole fortuna e opportunità per arrivare magari a giocare a certi livelli. Io ho avuto questa fortuna e poi ho fatto la mia carriera, di cui sono molto soddisfatto. Pescara? Sì, sì, dopo ho stato a Cava dei Tirreni, Pescara, Catania, poi ancora a Cava dei Tirreni, poi ho fatto un anno a Forme, sempre in C e poi ho concluso la carriera qui a Dosimo in eccellenza. Grazie, attenzione, grazie. Adesso parliamo con Marco Carlini, polmone e cervello del centrocampo di quei periodi in là. Io magari lui che non la pensa come me si offenderà, non credo. Io l'ho sempre definito il Tardelli dell'Osimana perché era capace di coprire tutti i ruoli dalla difesa e ogni tanto la buttava dentro. Ogni tanto la buttava, aveva la propensione al gol. Marco, sbagliato, ti ho offeso? No, no, figurati un po'. Queste cose ormai parliamo di diversi anni fa e anche io ho iniziato come Adriano, abbiamo iniziato insieme. Quella volta c'era il NAG, veniva sul NAG e poi tutta la trafila, giovanissimi, allievi, juniors, grosse soddisfazioni con la juniors che già cominciava a buttare le basi per la prima squadra, campionati nazionali juniors da non dimenticare, gran belle squadre la juniors che la settimana ha sempre avuto. Poi da lì, piano piano, siamo entrati nel giro della prima squadra, che non era facile quella volta entrare nel giro della prima squadra perché ad Osimo, come ricordiamo tutti, sono passati dei giocatori ragazzi che la mette paura dalla promozione, quando è arrivato a curare un mannino, c'era dei giocatori veramente bravi, poi primo anno da Serie D, giocatori come Marra, vecchi, cioè Osimo passati, passati grandi giocatori e noi come ragazzi facevamo un po' da contornare questa situazione della prima squadra, che tante volte era anche un po' deficitaria perché tante volte al sabato con la juniors dovevi fare un tempo perché poi ti portavano con la prima squadra, ecco le situazioni un pochino che, però tutto sommato ci stava giocare a quello. Poi io sono andato avanti fino all'84, tra quarta serie, serie C, poi di nuovo l'interregionale fino all'84, alla retrocessione, poi ho fatto un anno interregionale, poi ho intrapreso la carriera di allenatore. Anche lì abbiamo da dire qualcosa perché c'è una tua importante esperienza con la squadra di calcio femminile. Sì, sono stati tre anni bellissimi, eravamo partiti con poche ragazze, ci siamo ritrovati nel giro di qualche anno a vincere un campionato di serie C, anche in grado di affrontare la serie B a livello di organico perché la cosa si era un pochino allargata, però dopo non lo so, sono state situazioni che non so come definirle, magari era un po' troppo impegnativo sinceramente un campionato di serie B che si doveva arrivare in Sardegna, quindi queste poi sono scelte che non stavano bene, però le soddisfazioni sono rimaste. Sì, insomma, comunque lì hai marcato il segno, hai marcato il punto e si può tranquillamente dire che una B c'è stata. Antonio, vuoi dire qualcosa su questi due ragazzetti qua? No, io per me è personalmente un'emozione perché ho cominciato le prime esperienze cognitive diciamo dell'Osimana con loro in campo, la seguivo anche prima quando c'era anche Gabbanelli che era la prima, no? Che da quando ero piccolino dal campeggio eravamo casualmente in campeggio insieme e portava gli allenamenti, poi sai il zio Sandro che seguiva, quella volta eravamo tutti coinvolti e Osimo era coinvolta perché il campo adesso siamo onorati di avere quasi un migliaio di persone ultimamente, però qui quando ce n'erano mille era un fallimento perché ce n'erano quattromila, cinquemila ogni domenica. Insomma, le emozioni da bambino che io ho visto loro due e poi dopo Adriano ha fatto la sua carriera, lui è rimasto con una bandiera giallorossa e quindi i ricordi da bambino è l'inizio di tutto quanto, quindi bisogna essere grati, poi qui ad Osimo magari si incontra gli adolescenti che non sanno però forse grazie ai social che quest'anno dovevo ringraziare veramente lo staff dei social, sono stati molto attivi, servirà anche a rimangare la storia e poi comunque per i più giovani posso dire che Adriano ci ha portato, ha fatto un bel regalo questo inverno perché se Schaeffer veste la maglia giallorossa diciamo che dobbiamo ringraziare Adriano, quindi vedi come la storia, i cicli tornano e il cuore rimane sempre giallorosso. Su questi spalti non così magari organizzati e puliti c'ero anch'io come c'era tutta Osimo, ricordo partite epiche ovviamente i derby con la Civitanovese, con l'Anconitana e con altre squadre, con la Agnesina erano quelli più accesi, ricorderò sempre un gol di Truant su punizione in un Coppa Italia contro l'Anconitana che rimase storico. Ritorniamo ad Adriano, Adriano nella tua carriera hai incontrato gente, innanzitutto lui era un ottimo difensore con dei piedi importanti e elegante, vedeva molto il gioco e riusciva anche a impostare da dietro. I tuoi ricordi sui campi importanti, non che questo non lo sia ma parliamo di professionismo, qualche personaggio, qualche aneddoto che ti è rimasto più impresso? Sì, ho avuto la fortuna di arrivare fino in Serie B, in Serie A non l'ho mai esordito ed è un piccolo rimpianto ma va bene così perché probabilmente non c'erano le possibilità e comunque ci sono state le opportunità. Uno tra tutti, ti racconto questo perché mi è rimasto veramente impresso, come dicevo non ho giocato in Serie A però in Coppa Italia a suo tempo si potevano incontrare squadre di Serie A e mentre ero a Pescara e diciamo il sorteggio ci ha accoppiato con la Juventus che era la Juventus di Platini, di Bogniec, di Scirea eccetera eccetera. Allora noi avevamo come allenatore Tom Rosati, poveretto che è morto ma è un grandissimo personaggio del calcio pescarese e non solo e diciamo stava valutando l'impostazione della squadra e stavamo valutando un pochino questa tattica del fuorigioco se farlo o meno o no per il campionato perché insomma era rischiosa però insomma poteva esserci utile a tenere corta la squadra, c'erano queste cose qua, quindi la provavamo in allenamento. Allora andiamo a giocare a Torino in Coppa Italia con questo diciamo questa idea in testa e ci facciamo questo fuorigioco e lo facciamo molto alto, un po' troppo insomma visto che giochiamo a centrocampo. Praticamente la Juventus ovviamente ci ha messo un pochino sotto però noi insomma ribattavamo, era 0-0 questa partita a un certo punto, credo un rinvio della difesa avversaria, Platini credo a 20 metri nella sua metà campo e gli arriva la palla di spalle, noi allora quando era la spalla la palla di spalla era il momento da accorciare, accorciamo tutti a centrocampo però lui senza guardare nessuno mette una palla così tipo rovesciata così senza guardare, su Bonic che scatta dalla destra e che chiaramente con quel passaggio c'ha noi in avanti, lui si è inserito dietro la linea del centrocampo e è andato in porta e ha fatto il gol e questa partita la ricordo perfettamente anche perché quel gol ci è costata la partita e abbiamo perso soltanto 1-0 quindi diciamo la nostra dati che il fuorigioco non ha funzionato però è stato è un bel ricordo da condividere come il caccio senti Marco qui c'è questa foto dai spara ai nomi di seguito che ora ci rinfreschi coaci anche se loro non la vedono coaci ma c'era mengarelli io gianni palanca enrico tassi piedini palanca palanca adriano ne sa qualcosa quando si giocava vicino mi faceva pure più ancora perché questa era buona fare il tunnel non ricordo come dice alla città lati e neghe poi c'era tassi ho detto raul mannino lo conoscete tutti giorgio buffone che ogni tanto ci si incontra un pochino tutti e rapallini giugio rapallini che è venuto a mancare qualche anno fa adriano volenta mario tamelli cacchio la famosa frase quando hanno preso gol con l'ancona cacchio che cacchio e coaci che cacchio fai io ha fatto gol galli petrini che quanti nori gg piccolo di giacomo claudio ceppi ennio bartolini sergio palatroni e il grande alvaro alvaro retini della grande qui l'allenatore concorrente l'allenatore qua era mister questo è un dubbio a me e antonio cosa ti rinfresca l'ho detto prima detto prima per me è stato un periodo d'oro e poi molti sono osimani oppure legati per esempio il cacchio lavorava al negozio di articoli sportivi 15 e andavo il negozio e lo vedevo sempre accordava le racchette insomma era tutto petrini petrini poi si è sposato con una compagna mia di classe futura perché quella volta era più piggione e quindi sono tutti intrecciati con i ricordi di una vita meravigliosa però però effettivamente forse sarà un ciclo pure quello che è un invecchiato ricordi quante scusa marco ritorno quante presenze c'hai con i contati io dando un'occhiata mantini castorino siete i tre a livelli loro non lo so io allora è venuto un pochino sì certo e io quelle che ho visto sull'almanaco io ho tutti gli almanacchi dal 73 quando noi cominciavamo fino all 84 fra tutto mi pare sui 270 ma non diciamo che in c2 100 una sessantina quello che praticamente in oggi non ha fatto più di tutti perché stando c'è sei anni e poi mi pare retini e giorgio più o meno siamo lì podio però queste adesso io ripeto io questo è quello che ho visto perché sennò pure marco per me le segnali segnali per i tempi più moderni e adriano ritorniamo a te i tuoi parliamo sempre del professionismo in questo caso come ti sei trovato dove ti sei trovato meglio nelle società dove sei stato immagino in tutte più o meno ma c'è qualcosa qualche posto dove è veramente lasciato il cuore sì sicuramente sì sono due posti e uno è cavali tirreni in cui ho giocato in due periodi diversi per tre anni e poi un altro periodo di due quindi cinque anni l'altro posto che veramente nel mio cuore è catania a cui ho giocato cinque anni e poi quando ho smesso di giocare ho iniziato a fare il lavoro diciamo così direttore sportivo l'ho imparato diciamo a catania e sono stato quindi cinque anni a giocatore più altri tre e da apprendente di apprendista direttore sportivo scout quindi catania diciamo mi ha segnato un pochino un pochino la vita sicuramente grazie e adesso andiamo all'oggi anzi al domani domani c'è una partita importante antonio perché perché mi guardi così cosa ha riportato ha riportato la realtà è una bella è una bella sfida e riportato il calcio simano insieme agli altri a dei ai livelli che merita domani c'è una partita contro il fosso ombrone che è importante sì diciamo che ci giochiamo un po tutta una stagione io devo sempre ringraziare i ragazzi perché hanno fatto qualcosa veramente di straordinario lotteremo per fare questi playoff che sarebbe veramente una delusione entrare nei playoff tanto non ci sente nessuno tanto va in onda dopo quindi non mettiamo nessuna pressione è chiaro che inizio stagione avremmo firmato per essere a questo punto devo dire che a dicembre forse qualche pensiero più bello l'avevamo fatto però bene calcio non è che una scienza matematica e poi ancora tutto è possibile quindi c'è sta stagione poi vedremo ce ne sarà un'altra ma io a marco no volevo fare una domanda per ritornare nel tempo delle poesie ma due offerte vede stata la bandiera dell'osimana a quei tempi no come era il mercato perché io vedo adesso è un po subdolo perché tutti i telefono nessuno telefona però a quei tempi no per rimanere la bandiera dell'osimana qualche sirena c'era stata allora sì cioè è qualcosa era venuto fuori comunque io qui ad osimo stavo da dio cioè avevo tutto stavo proprio qua stavo bene la società era buona e qua ho tribolato un pochino inserirmi perché non era facile come ho detto prima e quando è raggiunto il momento mio che era era lì già ormai aveva deciso che io ero titolare le prime dieci partite lo giocate tutte quindi mai successo e auto un incidente incidente a pesaro dove una partita di recupero io ho rotto tutti i due mallevoli della gamba sinistra quindi da lì è finita la stagione sono stato otto mesi tra gessi operazioni mi ricordo che mi ha scritto il piede a pesaro sono dati in ospedale ma operato il professor picchio che era il nostro medico eravamo i e bolognesi nella stessa camera pensa un po che le storie no è da lì ho ripreso l'anno dopo con beni piano 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 piscina palestra mare sabbia tribolato e quell'anno li ricordo che potevano da scendere giù in basso non mi ricordo che squadra era che mi aveva fatto qualche era una qualcosina così male poco poi c'è tutto questo infortunio e lì è stata dura riprende però dopo da lì sono andata avanti in altri cinque sei anni a questi livelli sempre sono latini ci ho messo tanta buona volontà perché al mattino piscina pomeriggio andava corre giù in spiaggia e poi alla sera palestra non è stato facile un anno duro c'è stato qualcosina ma purtroppo sono stato penalizzato da questo infortunio ma grazie a dio l'ho superato bene volevo ricordare una cosa un ricordo che come adriano avuto ricordo di torino io non ci sono arrivato lì ho avuto un ricordo di padova padova alla pia vecchia piani di padova 25 loro prima in classifica pezzato davanti avevano dei giocatori differenti e fantini allenatore io e augusto sacchi difensori io su vitali vitali e lui so pezzato torresi baggiorini liberi poi davanti ha detto come vedete poi altri c'era marri ha detto non era un calcio organizzato torresi e baggiorini liberi insomma particolare qua e ci ha detto ragazzi noi ci dobbiamo salvare basta perdere uno zero basta perdere mezzo va bene davvero 0 0 0 0 0 0 mancava 34 milioni alla fine rigore di loro e padova teleco niente la gente li viva giù go 1 a 0 tutti contenti e felici dove perso da zero come diceva pizzerò beh vedevo di una cosa e quell'anno la differenza reti a comporre sono quelle storie di un calcio epico che ogni tanto ritornano a galla che rendono che i ragazzi non sanno perché oggi credo che tutto sia diventato un po un po troppo per carità professionale e sia un po se un po no vabbè ma sia un po troppo non voglio dire organizzato perché va bene però è venuta un po meno quel pathos e quella e quelle quelle ginocchia sbucciate che facevano del calcio una una cosa più a portata di tutti e adriano nella tua esperienza di direttore sportivo e qui magari mi riaggancio un po cosa mi sta rubando il mestiere in maniera brillantissima presidente no che esperienza è che esperienza è stata lo fai da tanti anni l'hai fatto è cambiato come è più difficile ci sono più intromissioni raccontaci un po perché è un settore importante che sta anche determinando i futuri di tanto futuro di tante squadre si diciamo che da questo punto di vista il calcio è cambiato totalmente no un po totalmente e perché ai nostri tempi quando eravamo ragazzi noi quando noi siamo diciamo affacciati ai campionati maggiori non c'erano i procuratori non c'erano diciamo persone che facessero da filtro no con tra i dirigenti e il calciatore era un diciamo un rapporto diretto e che aveva i suoi pregi e forse anche qualche difetto poi diciamo si è inserita questa figura che sembrata inizialmente molto positiva però in questo periodo di questi tempi forse un pochino diciamo così è stata un po snaturata e c'è qualche disfunzione questo punto di vista questo è il mio diciamo la mia lettura dei tempi attuali per quanto mi riguarda sì ho fatto direttore sportivo e ho fatto anche il capo scout diciamo che quello che piace di più a me è fare lo scout perché mi piace vedere i calciatori e la soddisfazione che dà diciamo scoprire un calciatore penso che sia difficile da raggiungere e ecco in questo caso come diceva prima Antonio il caso di Schaeffer è stato così quasi una casualità però non proprio perché siccome io amo molto il calcio argentino ho tantissimi contatti con l'argentina e con persone italiane che lavorano in argentina quindi è stato frutto di questo diciamo di questo percorso che ho fatto in passato e per quanto riguarda il direttore sportivo è un lavoro un lavoro più complesso e che non è facile da da fare perché bisogna curare tantissimi aspetti no dai giocatori alla dirigenza la tifoseria alla stampa è un lavoro complesso e difficile molte variabili esatto molte variabili quindi bisogna essere veramente veramente capaci per poter diciamo anche stare alle pressioni importanti che ci sono bene direi che se volete aggiungere qualcosa marco anche te io mi riallaccio al discorso di adriano quando eravamo ragazzi noi quando eravamo ragazzi noi praticamente avevi un rapporto diretto con la società e la cosa non era poi così male eri anche la proprietà dell'aria anche una proprietà perché io anche poi quando sono alloreto o qualcosina ci hanno preso sulle mie voglia di ma quello che volevo far capire io e che quando eravamo giù ragazzi nuovi mi ricorderò sempre adriano se forse eppure mi pare che c'era quella volta che quando il diana mi stavano rifacendo diana e noi andavamo a giocare le nostre partite casalinghe la prima squadra è la prima squadra che ha scritto noi andando le partite casalinghe le giocavano ad ancona al campo della fiera della pesca quello era il campo nostro in caso che cosa comportava che alle sette e un quarto se prendeva la la corriera in piazza in piazza del comune se prendeva corriera se scendeva gli archi alle 8 e archi tutto a piedi fino a piazza della pesca partita vincevamo perché la sua favolosa ritornavamo a casa verso luna luna non c'è un quarto c'è la corriera le due eravamo a casa tranquilli beati la domenica bellissima questo era quella volta la passione il calcio per noi anche perché se posso aggiungere perché quegli anni erano gli anni dell'emergenza c'è stata insomma che non diciamo che c'era l'austerity no e quindi non si poteva circolare con le macchine quel pulmo di linea quindi erano veramente tutte storie veramente sembrano quasi incredibili però questa è la realtà che noi che dove abbiamo passato a questo è appunto è vero adesso te lo ripasso volevo fare una piccola sottolineatura dice antonio non non fare come i vecchi che ricordano ma sì questa 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 serie di filmati di cose che vanno in onda servono proprio a far ricordare a mettere a conoscenza dei giovani di quella che è stata la passione e che sono stati sacrifici di loro due di tanti altri che non esitavano ad alzarsi la domenica alle sei e mezza perché certo punto per andare a giocare a calcio e e io non ho mai fatto l'agonismo ma io per una partita di calcio anche nei campetti più lo dico all'osimala sbrecciati ci da cc ci litigavo con la fidanzata loro che facevano la c si allenavano poi sui campi sbrecciati santilli non era proprio sì volevo ritornare al discorso della della quella volta dirigenza nostra con quando avevi a che fare per farti il contratto con silvano principi era una cosa quasi impossibile e quindi era c'era quel rapporto che alla fine ti ti legava proprio come squadra come tutto poi i raccorti con silvano principi ad esempio a me mi ha fatto fare il militare al distretto di ancona venivo su tutti i giorni a fare allenamento stava domenica stavo a casa ma ogni tanto qualche forma del formaggio io partiva in giro cioè era quei momenti che noi in prescrizione 50 anni qualche forma del formaggio per noi di intervista in occasione del rinnovato derby di promozione senti qua quando c'è stato il derby con l'ancora no cos'è 3 2018 godriano ecco allora tu mi racconta feci una serie di interviste che pubblichiamo su con tutti i vecchi protagonisti dell'epoca e tu mi raccontassi che una volta qui facesti un gol agli ultimi minuti contro ancora e mi dicesti a proposito di forma di formaggio che dentro gli spogliatoi volarono le carte da 100.000 confermi o rinneghi no confermo a quella quella partita lì loro noi secco allora noi eravamo terzi loro secondi a un punto ma che a quattro giornate alla fine fagò adriano la quella porta la 1 a 0 poi vanno rigore come al solito come al solito rigore dell'ancona appena 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 1 a 1 ma gli spalti qui non c'entrava nessuno e poi quanto manca di a 5 minuti palla filtrante da alvaro sul destro senza guardare la porta giro tiro e l'incrocio di pali e venuto giudini direi di dio e mi ricordo poi ditte sportori farla grossa cosa grossa cosa che quella volta c'era seguita la squadra era il punto di osimo economico io a rimanere di aver buoni fa c'era di tutta sta gente che girava intorno e entravano tutti dentro scuola i festosi e poi ogni tanto ogni tanto tanti corriandoli era fuori sto portafoglio piaste carte da 50 mila lire cittadini ricordi ea ea buttava per aria qualche qualche regalo di questa vittoria che poi ci ha permesso andare un punto sopra loro che se noi non perdiamo francavilla di era fatta la storia quindi veniva giuste carte da 150 quando vedi quelle da già da 10 mila direte e comunque manco nove serie non è cinquanta euro no guardiamoci chiari di un operaio guadagnato te dico tutto e venire su ste carte tutti contenti e felici al certo punto di avversariere bersagliere bersagliere non vedeva mai niente stiamo niente ma sapeva sempre giusto giugè comincia a raccogliere su giugè e poi dopo al martedì festa grossa perché dopo lui noi quella volta si divideva chi giocava al cento per cento che sta in panchina mi sembra l'ottanta poi se uno entrava prendeva c'è disegnava che segnava no no assolutamente poi chi andava in tribuna 50 chi era infortunato il 25 dopo giugè faceva quello uguale per tutti la particolarità di quella di quel divisione diciamo era questa che già di giacomo decideva lui come dividere questi diciamo premi partita mentre invece poi io e anche marco probabilmente in corsa carriera fino a quando ci sono stati prima in partita perché poi sono terminati diciamo i premi partita venivano diciamo conquistati alcuni punti eccetera venivano divisi dal capitano mentre invece la particolarità era che di giacomo decideva un fergus e si no decideva anche in base in base a tutte le regole ma anche lasciandosi una piccolo spazio per premiare qualcuno se si era comportato particolarmente bene eccetera ecco quindi anche questa una bella particolarità saluto al grande mister gg è doveroso non so antonio volete se avete qualcosa da aggiungere altrimenti qui non voglio io penso che ormai guardiamo un po' domani è come dice antonio domani qui farà caldo al caldo venite a fare a caldo è stato un po più ha moderato un pochino ma io dico che qui domani questo partito è da giocare questi partiti sono da giocare ma visto che io non lo possiamo fare domani sarò qui a rifare assolutamente o comunque tutti e due magari te c'è bisogno di un po di allenamento ma questo signore qua potrebbe potrebbe scendere in campo in forma perfetta vedete con 15 giorni del recupero ti mettiamo signori è stata credo una simpatica chiacchierata piacevole in questo scenario che a me commuove sempre commuove insomma è sempre è sempre emozionante il diana sarà il panorama saranno queste bellissime tribune dove da dove da dove spicca il nome di osimo vi ringraziamo dell'attenzione imparate e guardate cos'è stata l'osimana e cosa sarà perché nelle mani di antonio siamo in ottime mani speriamo sì è un saluto a tutti e ringrazio anch'io presidente antonio campanelli per quello che ultimamente sta facendo perché era diverso tempo che ad osimo non c'era ma no entusiasmo proprio io lo vedo lo leggo anche sui social c'è un bel coinvolgimento che questo sicuramente antonio è bello averli acceso antonio dei meriti dei sacrifici fatti all'inizio dove chiaramente non è stato facile e chiosa finale direi che il calcio è cambiato non volano più certamente nello spogliatoio le carte da 50 e da 100 se vola le raccoglie dirigenti per primo però comune cioè che alla fine quando entri uno spogliatoio la passione la sana passione soprattutto quella vista ultimamente penso sia rimasta quella e i valori che ci portano alla vittoria che è sempre sentito dire se non c'hai determinati valori non confermo adesso dopo tanti anni che si trovi quel mix giusto di valori cuore tutto quindi è la storia cambia ma la storia sempre la stessa e la storia io la sto con la collaborazione validissima di marco mantini la sto mettendo nero su bianco degli ultimi 25 anni e presto uscirà la seconda parte la prima è stata quella dei 75 anni fatti da scritte da donato andreucci e antonietta lombardi e questa adesso completa il secolo il centenario grazie adriano grazie a marco grazie a voi presidente grazie dell'ospitalità è un onore è un piacere buona giornata e forza sempre sempre osimana